Questa non è la nuova versione dell'RSV4 ma è l'esempio di come col kit Factory Works possa diventare la super sportiva italiana opera di alleggerimento e di miglioramento delle prestazioni del motore in totale sono 10 kg meno grazie anche allo scarico completo e la potenza sale fino a 200, 14 cavalli grazie allo scarico come abbiamo detto e ha una lavorazione della parte alta del motore quindi nuova testa e nuovi pistoni il kit non è ancora in commercio vi faremo sapere al più presto si possono avere volendo anche le appendici aerodinamiche che migliorano l'accelerazione della moto o meglio limitano la tendenza in piena area della moto una cosa di ispirazione MotoGP che fa molto racing